Un cordiale saluto ed una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart in studio Nicola Giannattasio. Sulla FIPILI per lavori ci sono rallentamenti in direzione Firenze tra Empoli ed Empoli Est e in direzione mare tra Ponte Dera Est e Ponte Dera Ovest Ponsacco. Il traffico scorre invece regolare su tutta la rete autostradale della Toscana. Sulla A1 in direzione Bologna è chiuso per lavori fino alle 18 il tratto tra Aglio e Rioveggio. Sulla A12 fare attenzione per personale su strada segnalato nel tratto tra l'allacciamento per l'Aurelia e il raccordo di Rosignano in direzione Genova. Sul raccordo Siena-Firenze in direzione Firenze è chiuso in uscita lo svincolo di Pogibonsi Sud per lavori. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!